Musica Carissimi telespettatori ben ritornati anche questa sera con noi come sempre ci articoleremo in diverse interviste tutte molto interessanti con personaggi che ci racconteranno vari spaccati della nostra realtà Incominceremo anche questa settimana con la scoperta e la riscoperta di alcuni angoli del nostro territorio a volte trascurati per la consuetudine, per la troppa fretta perché a volte viviamo in un Veneto straordinario ma non lo conosciamo bene e allora inizieremo proprio con chi ci saprà dare i giusti suggerimenti per scoprirlo ma come sempre incominciamo con lo spazio per i pensionati, per i nostri anziani con lo SPI CGL A tra poco